Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che in verità scorre regolare su tutta la rete autostradale toscana in Fipili. Rimaniamo in Fipili per ricordare che a causa di lavori rimarrà chiusa fino alla mezzanotte del 14 dicembre l'entrata di Pisa Aeroporto in direzione mare. Sulla statale 12 della Betone del Brennero a causa dei danni provocati dalla piena del fiume Serchio è chiuso il tratto tra il chilometro 44 e 300 e 46 e 700 in località Borgo Ammozzano. Sulla statale 3 bis Tiberina, sempre a causa di lavori, scambio di carreggiate e chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e in uscita in direzione Orte. Viabilità della città di Firenze a causa di due incidenti, possibili disagi in via del Pian de Giullare e in via Alessandro Allori all'ingresso di Viale Guidoni. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!